Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio sulla A1 per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1 sulla Fipili in direzione Firenze un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ponte della Est e Montopoli code a tratti per traffico intenso tra Lastra e Firenze Scandicci sul raccordo Siena Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggi Monsi Sud in direzione Firenze la viabilità cittadina a Firenze in via Santa Maria per lavori alla rete idrica divieto di transito tra via dei Serragli e via delle Caldaie Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana di Firenze e comune di Firenze buon viaggio